Siamo con mister Giacomo Maraciulo dopo la sconfitta in rimonta Massafra 3 a 2, il risultato finale. Mister, comentiamo una partita assurda, primo tempo molto equilibrato, nella ripresa solo Bitonto fino al 35esimo. E poi cos'è successo? C'è solo da chiedere scusa ai tifosi più presenti, perché quello che è successo oggi è qualcosa di vergognoso. Come si fa a rialzare la testa dopo una partita del genere? Perché, ripeto, abbiamo visto un grandissimo Bitonto nel secondo tempo, 2 a 0. Poi però abbiamo continuato ad attaccare, non incidendo però nel risultato per chiudere definitivamente la gara. È bastata una scintilla per riaprire e riaccendere l'entusiasmo dei padroni di casa. Dieci minuti di follia che obiettivamente devono dare tanto a pensare a tutti quanti, me compreso.